Quando ascoltavo la parola socialmente pericoloso, la leggevo, era una delle ferite più grosse perché io dicevo ma non è il Mario Tirozzi che io conosco, la persona di cui stanno parlando, trafficante internazionale di stupefacente. Io nella mia vita sono cresciuto a pane e fiori alla Corte di Appello di Roma dove viene praticamente ribaltata la sentenza di primo grado e mi viene praticamente sentenziata l'assoluzione per non aver commesso il fatto. Sono una vittima di una vittima di giudiziaria. Quanti anni della tua vita hai perso? Anagraficamente 7, ma personalmente, moralmente forse 700. I danni che porta una vicenda del genere da quelli economici, nonostante siano veramente importanti, occupano l'ultimo posto perché al primo posto ci sono le ferite che lasciano a te, ai tuoi cari, alla famiglia. L'opinione pubblica non aspetta che ci sia un processo, ti sbattono in prima pagina. Ahimè, buona parte dei giornalisti si occupano molto di quel momento, ma non della soluzione, fa meno audience probabilmente. A livello personale ti distrugge, a livello commerciale, perché le mie aziende sono andate fallite, prima in liquidazione poi fallite, le banche ti abbandonano, i fornitori non ne vogliono più sapere, i clienti si spaventano. Non c'è cifra che a me possa restituire un sonno sereno di notte che ho tutt'oggi, anche alle 4 di pomeriggio, se sento il campanello della porta salto dal divano. Non c'è cifra che io ogni tanto sento il tintinio delle chiavi della cella ancora nelle orecchie. Non c'è cifra che una persona esce dal carcere dopo pochi giorni, dopo mesi, e non riesce a reggere la forchetta in mano, perché la forchetta che ti viene concessata, essendo monouso, praticamente a casa è molto più pesante, quindi sembrano fesserie, ma questi sono traumi che io tutt'oggi, credo di avere un carattere forte per aver passato quella cosa, però tutt'oggi nascondo e cielo delle cose per provare di non gravare sulla famiglia, essere sempre sorridente, felice, ma ci sono cose che porti in te, ci sono cose che io ad un banale posto di blocco provo 100.000 emozioni, paura, timore, nervosismo, ansia, a parte le operazioni di perquisizione personale del veicolo, perché nonostante, non so se la soluzione non la leggono, non la trovano, probabilmente è in fondo di una lista dei miei problemi e questo continua a causarmi sempre problemi, è un coltello che scende sempre più giù nelle ferite che già esistono. L'ultima volta è successo con il direttore della banca in macchina, quindi vi lascio immaginare qual è la vergogna che si prova, perché non è che io posso andare a mettere in piazza che sono una vittima di una vittima di religione iniziale, il ricordo è vivo, non so se ci siano degli anni, ci sia un numero di anni dopo il quale possa essere diventato, io non credo. Il 28 settembre 2015 sono stato praticamente raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere perché sono finito coinvolto in un gruppo di persone che, secondo la magistratura inquirente, praticavano delle attività delettuose. Veniva sostenuto che l'attività di piante e fiori non fosse altro che una copertura per nascondere traffici illeciti. Nella notte tra il 27 e il 28 settembre sono al citofono i carabinieri, io all'epoca non ero sposato e vivevo con due genitori anziani, ho censurato io, la mia famiglia e tutti i miei parenti più stretti, assolutamente sì, senza mai si può dire una multa per un divieto di sosta. Già alla vista dei carabinieri, per una persona che ha sempre lavorato, mai avuto problemi con la giustizia, alle tre di notte, voglio dire, incude abbastanza paura e timore, soprattutto perché non si riesce a capire di cosa si tratta. Mia mamma svenne in quel momento e non l'ho rivista più per tre anni perché non è mai venuta in carcere, non accettava di vedere suo figlio in quelle condizioni. E poi vengo accompagnato nel carcere di Santa Maria a Capo Avetere, dove trascorro la bellezza di 655 giorni. Stare in una macchina di carabinieri, ve le spiegate, con le manette, cosa si può provare? Dolore, rabbia, paura, non sai cosa ti aspetta, non sai oltre quel cancello cosa c'è. Poi marchi il cancello, perquisizioni non banali, ma molto invasive. Si perde la dignità, l'uomo, il giovane, il giovanotto, la persona adulta quale sei viene messa sotto i piedi e devi provare a ricimolare con le tue forze tutto quello che puoi per andare avanti, altrimenti le scelte sono due. O commetti un gesto estremo, oppure dai di matto, ti sedano con dei farmici e quando la storia finisce, se finirà, resti una persona, pressoché un vegetale. Danno nel danno. La paura più grossa era che le mie domande non trovavano risposta, che io mi chiedevo perché sono qui, che ci faccio qui. Se io stesso non mi do le risposte a queste domande, come una persona terza mi può giudicare e credere alla mia versione, visto che fino ad oggi passano i mesi e non mi credono? Viene fatta richiesta per il riesame, per la scarcerazione. La legge italiana consente di motivare per tre motivi, o l'inquinamento di prove, o la reiterazione del reato, o il pericolo di fuga. Ad ogni mio rigetto che subivo c'era una delle tre. Non capivo mai il perché, da incensurato. Era il 5 novembre 2016, mi viene semplicemente con una frase attraverso un citofono comunicato che vengo trasferito in un reparto di alta sicurezza. Tutt'oggi, a sette anni della vicenda, non abbiamo mai capito il perché. Praticamente viene rigidita la misura. E soprattutto la cosa più grave era quella di subire un taglio sugli incontri familiari. Cosa che per chi è un detenuto, soprattutto da innocente, parliamo che è come fosse un ossigeno per chi gli manca l'aria. La doccia non si ha in camera come si ha nel reparto dove ero precedentemente, ma si ha fuori dalla camera. Quindi si può fare, se non ricordo male, solo due volte a settimana. Si è attraverso un corridoio, mezzi nudi, quindi già l'intimità viene trafitta, viene offesa alla dignità delle persone. Una persona che è potenzialmente innocente fino a terzo grado di giudizio, da incensurato. Se io a 30 anni, spaventato, intimorito da quello che mi potrebbe aspettare, sento parlare qualcuno che magari ha 30 anni o due il gastro sulle spalle, non è che io vedo troppo futuro davanti a me. Da lì a poco sarebbe iniziato il processo. Mi viene posta la domanda, tramite il mio penalista, della scelta di rito abbreviato oppure rito ordinario. Non sapevo di cosa si trattasse. Mi viene consigliato, oggi dico, ahimè, il rito abbreviato. Io sono stato arrestato, soprattutto a causa di intercettazioni telefoniche. Sono delle segretarie di questa azienda, dove parla di soldi. Lei mi rispondeva alla lei di turno, ok, li ho ricevuti, li ho distribuiti, li ho girati. Io vengo indagato e arrestato, loro nemmeno indagate. Quelle persone a me mi sarebbero servite come testimoni. Il rito abbreviato non mi consentiva manco questo. Il nuovo avvocato Maio prova a spiegare che ero stato indotto in un errore involontariamente e quindi in primo grado vengo condannato a sette anni di reclusione, nonostante il PM avesse chiesto sei anni e otto. Arrivo praticamente al 29 novembre 2017 alla Corte di Appello di Roma, dove viene praticamente ribaltata la sentenza di primo grado e mi viene sentenziata l'assoluzione per non aver commesso il fatto. Abbiamo iniziato l'iter per la richiesta di indennizio per ingiusta detenzione, che sottolineo che in Corte di Appello mi fu rigettato la prima volta perché praticamente non avevo collaborato in qualche modo. Tutt'oggi mi chiedo cosa avrei dovuto fare per collaborare, visto che io non mi sono mai sottratto da alcuna domanda. Come è fatto ad andare avanti? La consapevolezza della mia innocenza, quello è poco ma sicuro. Lottare con i miei denti, stringere i denti per andare avanti, non è stato facile, non è scontato. Programmare oll'oggi per domani non era semplice. Svegliarsi la mattina e dire sono un altro giorno qui, ma devo farcela, ma soprattutto per riconoscere ai miei genitori, ai miei familiari, quella che è stata sempre la nostra onestà e dignità, di dire lo faccio per voi e la gente si ricrederà che io ero, sono e resterò una persona per bene. Mi è stato riconosciuto un indennizzo per ingiusta detenzione, per la piena sofferta. Io nel 2015 avevo 31 anni. Ho avuto la famiglia unita, però hanno subito gravemente anche loro questa situazione. Uscita da quella storia, la prima cosa che ho fatto e che ho preteso di fare era quella di sposarmi. Commercialmente non è stato più facile, anzi è stato impossibile riprendere quella che era la mia attività di imprenditore del mondo florovivaistico, solo perché aziende fallite, le possibilità economiche familiari sono state mangiate, distrutte da questa faccenda. Ho intrapreso un nuovo progetto imprenditoriale con degli amici, che è una pizzeria gourmet che si trova qui a San Nicola la Strada, provincia di Caserta, a pochi passi dalla famosa reggia, che si chiama Apprentista Pizzaiolo. È come fosse un laboratorio di idee che nella vita non si è mai maestri, ma anche se uno sa fare bene un mestiere, si è in continua evoluzione, si vuole sempre apprendere e quindi da lì nasce il nome L'Apprentista Pizzaiolo. L'apertura di questa pizzeria per me è stata praticamente una botta di adrenalina. Una persona che non ricordo il nome venne e mi disse una parola, mi disse io sono qui da italiano, molti italiani non ti hanno dato praticamente né credibilità né chi doveva giudicarti, ti ha reso giustizia. Io sono qui perché credo che è la prima cosa che bisognava fare. Da italiano chiederti scusa, anche se io l'ho accettata, ma non mi sento una persona che ha bisogno di scuse. Io mi sento una persona che, se posso, provo a contribuire a questa causa che oggi è l'errore giudiziario, che in Italia è praticamente dilagante. Come ci insegnano alcune statistiche, una persona ogni otto ore viene arrestata ingiustamente, parliamo di tre persone al giorno, oltre a mille persone all'anno, quindi è una piaga. La macchina della giustizia sicuramente va migliorata, non da me perché non ho la ricetta magica. Se riusciamo a far arrivare a chi ci governa, di provare ad aggiustare alcune cose della giustizia. In ogni categoria professionale esiste la responsabilità. Il chirurgo, l'imprenditore, il pizzaiolo, piuttosto che il giornalista. Credo che nella mia vicenda qualcuno ha sbagliato, più di qualcuno probabilmente. Non ne sono sicuro, ma come succede spesso in Italia qualcuno è stato anche premiato. La Costituzione dice che ci sono tre gradi di giudizio affinché una persona diventi colpevole definitivamente. Ma all'opinione pubblica questo non interessa, non è a conoscenza. Provo a sensibilizzare l'argomento come faccio essendo testimoniale di un'associazione no profit chiamata Rorigiudiziari.com Affinché le persone capiscono che in Italia chi non sbaglia non può pagare in qualcosa di non avermi fatto perché poi non c'è cifra che possa risarcire i danni che hai subito. L'acqua di avere avuto giustizia è un parolone. Io dico semplicemente che mi è stato restituito qualcosa che mi è stato sottratto ingiustamente. Io se avessi avuto giustizia non sarei mai dovuto finire in questa vicenda perché ho lottato per avere giustizia. Quindi non mi è stato regalato nulla, non mi è stato concesso alcun favore. Quindi alla stessa domanda che spesso mi fanno credi ancora nella giustizia? Io rispondo credo in alcune persone che rappresentano la giustizia.